120 bambine dal 2006 al 2014 hanno dato vita a un torneo 3 contro 3 al centro commerciale La Piazzetta, sotto leggi da Dell'Enda Sardegna, preseduta da Andrea Perrone, che ha curato la parte relativa alle premiazioni. Una serata di saluto a una stagione che ha visto protagonisti piccoli cestisti che crescono nel centro minibasket supervisionato da Antonello Pilia, che con il suo staff ha accompagnato per palestre e tornei i futuri campioni di questa disciplina. Una serata che ha visto vincere tutti indistintamente e la parte ludica è stata accompagnata dalla parte conviviale, che ha riunito tutte le squadre in un'unica famiglia, quella dell'inclusione e delle regole della palla spicchi.